Ho già ma non è giocabile Cioè detto sinceramente Ma penso non è giocabile da nessuna parte Allora possiamo andare aggressivi contro sto tizio Ma noi ci proviamo ragazzi Ma noi ci proviamo Sicuramente Brum non è un granché Vediamo un po' se la mia aggressività Verrà premiata Io direi Titanic Oh comunque ottimi sti consigli Cioè Titanic è molto forte su Brum Giocato a questo e le rune comunque Non so dirvi quanto siano forti Quanto convengano Boh volevo provarle Brum purtroppo non ha degli scaling AD Di conseguenza fa un po' cagare Brum AD Aspetta che c'è Trandol Presa Trandol è qui eh Faccio notare La rubo Let's go Come doveva partire ragazzi Prima c'è stato un remake dove ho fatto il first blood E ora First blood Esattamente come doveva essere Comunque non l'ho rubata perché l'ignite non bastava Tonk Ah comunque sappiate che io Brum non c'è Non so bene come funzioni Perché non lo gioco mai Chi l'avrebbe mai detto Però Penso che anche lui non sia un granché nel videogioco Quindi problema risolto Eh Tua madre era Molto saggia Eh Ok Andiamo back Allora E diresti max Indubbiamente Q Faccio un altro punticino sulla Q Oh no Tanto Ok back Ci prendiamo La tripla spada Aspettate Sì sì Tripla spada Guardate qua Brum lo spadacino ragazzi Azzazzazzà Mi chiamano Zoro Ah l'ail of blades In passiaccio ho pensato Però allo stesso tempo Dico io in top Non è che ci combino molto Anche perché il ramo rosso Non è il massimo Capito Su Brum Cioè alla fine è buono L'ail of blades Buono Il cheap shot Gli altri due Fanno un po' cacare E Mamma mia Me l'ha pure lasciata Grande Che fotte Sembra buona la wave così Forse Non lo so Dai il carretto tank Il carretto tank Vediamo Perfetto Questa è stata una buona gestione Della wave Vedete La sua wave si accumula Qui sono tutti i minion Che mi farmo E la mia invece Stava morendo Quindi lui ha perso dei minion Piccolo Piccolo tip Per La gestione della wave Che sta a vedere Brum Con il Tiamat Perfetto Sì che sei un pro Ma alla fine Cioè per registrare la wave Hai anche un po' di logica Basta che sai contare Quando hai più minion Dell'avversario La tua push Quando ne hai meno Pusha la sua In quel caso Ho dovuto sfoltire un po' Perché i suoi erano Tanti di più E se l'avessi lasciata così Col fatto che aveva Tanti minion La sua wave Sarebbe finita Sotto torre Perché avrebbe ucciso I miei minion prima Dovevo trovare La giusta quantità di minion Per far sì che I miei morivano Ma non morivano Così velocemente Da far arrivare La sua sottotorre Capito È così che funziona League of Legends Questo però non guardatelo Tonk Eh sì il carretto Andato ragazzi Capita anche i migliori Purtroppo Ha Tank Ponk Che poi la Q di Bron Fa anche dei bei danni Considerate che adesso Non ho HP E la Q scala con gli HP Ponk Qua devo Devo pusharla Ponk Mi sottovaluti Mi sottovaluti Stunk Ma che fastidio Che gli sto dando Vedi qua che ti sparo Tonk Sembra divertente Per essere Forse perché C'ho tre kill Se no Se no forse Non sarei Estremamente divertito Tuk Rampage Molto bene Ci prendiamo anche una plate Io direi max 10 seconda Non ha alcun senso Maxare La V Bec Avevi l'agoratore Ma lui è stato Tanto gentile Ha tirato fuori Oh micchia Ci abbiamo già Molto bene Micchia Minuto 8 Ci abbiamo già la Titanic Questo è un broom Con le palle Porca miseria Ragazzi Su Master Sta Cioè Cali 4-0 Mi vado 0-4 Katarina Senza farm Che tragedia La Midland Che tragedia Che tragedia La Midland Meno male che ci sono io Ci penserà Bruma Mettere la cuccia Quella Vieni qua Metta che danni ragazzi Che bella è la Titanic Mamma mia Io amo il fatto che la Titanic sia tornata come una volta che ce l'ha all'attiva Bellissima Ce l'avate come push bene con sto oggetto Tunk Tunk No No what Ok Qua ragazzi Non puoi impegnare Perché Akali strafidata è un bel problema come ben sappiamo Arriva È lì Orca miseria Quanta gente Orca miseria Oh ascolta Ah no Posso fare il board jump 4 top Beh È una di quelle partite Ragazzi Mi sembra di capire Vabbè Va bene È uno di quei game Cata per fissi bologna Ho visto Ho visto Ho visto Il fatto che mi consigli La blade Mi rende molto contento Però Fatemi pensare Avremo sicuramente I sui magic resist In generale Buonasera Rick Cosa ne pensi Del nuovo gioco Di carte Di star wars Ci sarà Mercato di collezionismo Secondo te Penso che c'è La faccia da solo Qua Grazie Ronda Grazie Grazie Del re sub Beh Star wars Quindi penso Proprio di sì Grazie mille Però non penso nulla Perché non Non me lo sono cagato Purtroppo Grazie anche a Sergianni Del sub Molto gentile Signor Sergianni Come dire Che poi io sto Giocando così aggressivo Per dare Ora verranno tutti In top Sicuro Vediamo un po' Quanta gente Arriva Vabbè Vabbè Ragazzi Cosa facciamo Aiuto Se fare la V Subisce Sì ma Su chi Dove Dove la facciamo Ma come la V Su me stesso Ma non c'è scritto Che funziona così Come funziona La V Su me stesso Ma Scusami Perché sta funzione Qua non c'è scritta Vabbè Ok Vabbè Certo Del resto Rome è alleato Di se stesso E quindi è scontato Pure un minion Dipende dai punti di vista Ha perfettamente senso Ma io non lo sapevo assolutamente Io devo giocarmela così Sti cazzi Se vengono in top Cioè Che altro modo ho per vincere sto game Se non mettendo sta pressione qui Non c'è niente da rubare Se n'è andato No è lì Eh sto game qua ragazzi È uno di quei game purtroppo È uno di quei game E io sto giocando Broom top Quindi Cioè Non posso carriarvela Però Abbiamo comunque visto Che il broom top Sa il fatto suo Magari in un game Con degli alleati umani Possiamo anche fare qualcosa In automatico è persa Dici Cioè abbiamo Catarina 06 Senza farm Loro hanno a cali strafiddata Annotrando il fiddato Stanno vincendo tutte le lane E io sono Brum top Non dico sia persa In automatico Però Cioè non vedo Per vincere Devono smettere di giocare Tipo Forse se smettono di giocare Vinciamo Può crash a qualcuno Ci può stare Tornata la musica È tornata la musichetta Ragazzi Che due coglioni sta musica Guarda mi sta proprio sul cazzo Spero la tolga Non ho ancora capito Cosa dovrebbe essere Shutdown Shutdown su Lulu Io oltretutto Non ho nemmeno il TP Quindi non posso neanche fare Delle giocate Con il resto della mappa Capito Vabbè Tanto ormai Cutta soldi Non è da più Ciuff ciuff Motherfucker Let's go Vai vai Noi diamo fastidio Nel frattempo Ora penso Arrivi qualcuno E poi c'abbiamo La Botrack Quindi direi di andarcene Oh Eccoti Actaroth Scegli bene Un pick per dopo Mi raccomando Oh 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 Corri Ingage 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 Atroia Fermete Noi abbiamo Viego che è messo bene Questo non avevo Tenuto in considerazione Prendiamo tutto Poi mi sono unito Anch'io alla festa Mi sono unito Io alla festa È finita Per loro Trandolkrit E via Ma certo Che lo è Assolutamente Sì Oh Niente Questo Questo non c'ha La ult Let's go Dai raga Che cariamo Con Bromtop Questo scudo Non è dal lato In cui dovrebbe essere Oddio Tutti senza vizia Rivali Starla stitarci Adesso La guinzo Pare un po' Esagerato Facciamoci una bella Trinity Altro che Eh Scusatemi Ragazzi Sarà ben meglio Li sto carriando Ma guardate Che Mi piace Ovviamente La cosa La cosa è che Non ha Scaling a D Brom Quindi è un po' Una pippa C'è la Q scala Con gli HP E se vai Una build Addivente Non ne fai Tanti Anche se Noi stanno Accendo una build Bruiser Quindi un po' Di HP Ce li facciamo Altrimenti Veramente Non faremo Nulla Mamma mia La passia è Veramente Veramente Forte Di Brom Assolutamente Sì Assolutamente Sì Anche il fatto Che Seth Usi la W Così Come POC Generico Oh shit Mamma mia Quanta gente È arrivata L'ha pure Curato di slitta Che sfiga Che ho avuto L'avrei killato Lì Vabbè È una tragedia Anche perché Lulu ha ultato Catarina Però Noi abbiamo Viego Hanno usato Tantissimo Su di me Viego Inizia a fare Il Viego Viego La stitta Attenzione Molto bene Io non ho idea No la W L'ho sbloccata Ma non la uso Non c'è Proprio Non riesco a capirla Non mi piace Non la voglio usare Pfff Sì Proprio una merda Non la voglio usare Sta spell Questo è il dash Per me La Q di Jax Però tipo Anche quella situazione Non cambiava niente No Posso usarla anche su me stesso Cioè non c'è scritto C'è scritto Faccio leap Su un campione alleato O un minion Però la posso usare Anche su me stesso A quanto pare Perché Non lo so L'hanno voluto tenere segreto Solo per i migliori Questo Oh Lulu Però se ti allontani Ha senso Chasarlo Ma io lo faccio Tanto Ma sì Basta Quella è troppa gente Ok Din 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 E insomma Oh Oh È un missile terraria mi è arrivato Vabbè Non c'ho capito un cazzo in sto fighter Ragazzi so che Ash C'è 1100 danni Dagli oggetti Rip Devo farmi armor qua Un pochino adesso I danni li abbiamo ci serve un po' di tankiness Classico Allora io andrei Botlin adesso a fare un po' di casino Sinceramente Minchia loro Topliner 06 poveretto Allora Cosa buildare? Cosa fa Kata? Perché in mezzo a 60 persone? Così Perché no? Per il meme 2-10 Deve ribilanciare la partita Katarina Oh Ma mi scusi Lei cosa sta facendo esattamente? Vabbè Tieni Così Così impari Stai pure lì Eh Eh Cosa fa? Si stava incazzando La sera appuntamento fisso Tu che massacri Iron e io Che mi diverto Come un bambino In un negozio di dolci Oh Mamma mia Qua stavo combinando Giusto in 50 Potete killare il Brom Brom l'incredibile Ah Witsand Sapete che è gustosa Ragazzi Mi farò questa Qua Kali Fiddata C'è Mamma mia Staccata Rina Proprio Non pervenuta Ma poi Lulu che ci sta presso Cioè Proprio Non Saranno per me Non credo Grazie mille Raziel Sono molto molto contento Grazie mille Era sub Caro 53 Minion Dai che tra un po' Si finisce il secondo oggetto Piano piano Si fa tutto 7 1 12 Oh E cammina Kazaka 21 Mo' arrivo You are safe With Brom Che succede? Oh oh Iniziamo il movimento qua No brother No mi ha bloccato Preso Mi ha bloccato Alistair Mentre saltavo Ragazzi Ho usato la W Su Su Viego Tick 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 Oh 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 Vabbè Catarina che muore Va bene A parte che Non so cosa stia combinando sto signore qua Un po' non pervenuto come dire E adesso si fa festa Pezzi di merda Si fa festa Pezzi di merda Madonna Quelli li abbiamo scassati Li abbiamo disintegrati Ragazzi Ragazzi Ah ah Doggiato Oh oh Non penso Ma Sì a testo ignite Stronza Mi piace questo Continua rass Della loro base C'è proprio C'è proprio Vatti Qua sta succedendo Oh ma che cazzo sei Ah scemo Boom Che forte ragazzi Che forte Acta Cosa scegliamo quindi Devastante Molto bello Brome Mi è piaciuto Mi è piaciuto Approvato Ciao sono un sub Ciao sub Io sono fieri Clostrimer Va bene ActaRoth Va benissimo Top Damages Top Damages Ragazzi La nostra Catarina Era bilanciata Dal loro Poema Una 30 A 30 Un saluto